Buonasera, siamo qui al Auditorium dell'Arts America insieme alla concertista internazionale Cristiana Pegorara appena tornata dal successone di New York. Raccontaci la tua esperienza. Sì, è stato veramente bellissimo, sono appena rientrata da questo tour di 20 concerti in America ho portato in tour il programma Omaggio all'Italia che proporrò anche al concerto all'Auditorium dell'Arts America un programma basato su autori italiani ma anche autori che si sono ispirati all'Italia quindi è proprio un omaggio al nostro paese, un programma molto molto bello l'ultima tappa è stata la Carnegie Hall di New York il 17 novembre grandissimo successo, una sala sold out, 4 stand innovations quindi sono veramente molto molto felice di questo esordio, di un programma così italiano in una sala così importante nel mondo e sarò felicissima poi di riproporlo qua al concerto del 3 dicembre bene, noi la ringraziamo anticipatamente e vi aspettiamo tutti il 3 dicembre vi aspettiamo, arrivederci, ciao